Ciao! Ciao ragazzi! Ciao Andrea, ciao Carolina, ciao Gianluca, ciao a tutto lo studio e ciao a tutti gli italiani che sono già svegli. Buongiorno, chiaramente giorno per noi, sera per te evidentemente. Sera per me, sì, io sono qua a Los Angeles, sono le 10 e 20 e questo è il mio soggiorno che sarà anche oggi il background del mio collegamento. Esabetta, chiariamo subito una cosa, togli quello sfondo che hai messo da... dai, togli quello sfondo. Non è lo sfondo, è casa sua Andrea. Dai, togli quello sfondo, ce l'ho pure io, quando faccio le call conference mi metto qui. Ma stai insieme? Sì. Sono le zucche che ha disegnato mia figlia, un po' di rispetto. Prendi un cuscino e tiralo, facci vedere che è vero. Ma Andrea... Eh, vedi? È tutto vero. È tutto vero. È tutto vero. Sì, però, allora, ragazzi, non perdiamo tempo perché ho preparato degli esercizi, soprattutto per Andrea. Ho proprio studiato gli esercizi di risveglio muscolare. Io sono stata incaricata di fare il vostro risveglio muscolare, quindi mi sono preparata. Andrea, per favore. Ma io non vedo l'ora. Senti, ma... Facciamo brutte figure. Vuoi una musichetta sotto? Vuoi una roba con una cassa in quattro? Quella che vuoi. Quella che vuoi. Ti ho visto frizzantino in forma, che invidiamo un po' quei ballerini. Hai la tua chance proprio adesso. Vai, Elisabetta. Eh, vabbè, ricordiamoci che sono le sette del mattino. Allora, ragazzi, tutti insieme, tutti insieme, circonduzioni, braccia, in avanti. Vai, Carolina, anche tu, eh. Anche tu, Carolina. Ma io lo ho già fatto. E indietro. Indietro, vabbè, facilissimo. Ma tutto serio, lì, dentro quel bancone, che legge le notizie. Dai, Giacucca. È facilissimo questo. Dai, Carolina, vieni qua davanti. Vieni qua davanti. Dai. È facile. Bravo, bravo, ecco. Bravicia. Allora, ragazzi, flessioni del busto laterali, ok? Elisabetta, però tu devi considerare che Andrea si potrebbe bloccare da un momento all'altro. Dai, ma non ti preoccupare tu, tu fatti gli affari tuoi. Eh, va bene, ragazzi. Flessioni del busto. No, ma... Ti vede la parte? No. Poi invidiamo a questi ballerini che prendevano il treno. Hai visto? Questo è il suo momento, ok? Ma devo sentire tirare, devo sentire tirare. Mi sono preoccupata. Sì, non andare troppo giù, perché sennò poi ti devono tirare su in due. No, no, vai, vai. Ok. Allora, ragazzi, spuot, braccia, dritto. Vai. Questo è bello. Vediamo, aspetta, controllo. Questo così dobbiamo fare. Vai. È tu pure, però. No, vedi, le ginocchia superano la punta, non devi. Vero, Elisabetta, che le ginocchia non devono superare la punta del piede? Non devono superare la punta, brava Carolina. Bravissima, controllali per me. Scusa un attimo, però, guardate, cioè, semprini, ragazzi, abbiate pazienza, va dai. Ma dai, ma stai perdendo la dignità, semprini. No, ma io sono un atleta, eh. Sono un giornalista, ma sono un atleta, eccolo qua. Dai, andiamo avanti, Elisabetta. Allora, andiamo avanti, facciamo, iniziamo un po' la parte cardio, direi. Quindi, skip ginocchia alte. Questo è un esercizio che fanno anche i bambini, è facilissimo. Skip, facciamo skip, vai. Mi raccomando, le ginocchia devono essere altre. Più alte. Più alte. Facilissimo. Più alte. È facilissimo. Più alte. Bene. Ok, e adesso, ragazzi, qualcosa di un po' più complicato. Ecco. Sei pronto, Andrea? Fatti vedere. Sono prontissimo, vai, vai, sono prontissimo. Skip, continuo a fare skip, pugni. Skip e poi vai. Sì, ma te, cioè, coordinato. Ma quanto dura sto collocamento, ragazzi? Coordina. Dai, dai. Pugni. E poi, adesso, veramente, questo è l'ultimo, ve lo giuro. Squat, calcio. Squat, calcio. Mamma mia, così si rompe, secondo me, vai. Squat, calcio. Mamma mia, che cosa brutta. Squat, calcio, squat. Lo sapevo. Che giornata? Lo sapevo. Stop, stop, ragazzi. Sì, e mi smette, interrompiamo perché, come ti dicevo, si è avverato quello che, insomma, che pensavo, cioè che si è bloccato. Allora, uno, uno semplicissimo. Allora, puoi anche stare seduto. Questo riguarda il viso, per voi conduttori, molto importante. Il viso. Sei pronto? Aspetta, aspetta. Vai. Vai. Ma che cos'è questo? Vai. È coordinazione. È coordinazione, rifletti. Allora. Allora. Luca, pazzesco, proprio, ragazzi. Bravissima, sperato la prova di scaldamento, ragazzi. Allora, Elisabetta, grazie per questo intervento. Però, prima di salutarci, tu ovviamente non sei con noi solo oggi, eh. Prima di essere mandata a quel paese. No, anche se sperate di sì dopo oggi, vero? Forse Andrea spera così, ma noi assolutamente no. Però vogliamo sapere, visto che... Ma te l'ho rimasto all'uomo, ragazzi. Che sei tenendo? Si bloccheranno a un certo punto. Volevamo sapere la routine del mattino per te, visto che in realtà noi ti incontreremo sempre di sera. Però vogliamo sapere come ti svegli, che cosa fai. Io ho appena finito di mangiare un piatto di pasta... Ho appena finito di mangiare un piatto di pasta ai frutti di mare, cucinato da me. e sto per andare a letto quindi io sto facendo questo mi porto avanti per domattina e la mattina cosa fai invece? domattina faccio un bel caffè poi quando non devo portare mia figlia a scuola vado ad allenarmi altrimenti posticipo l'allenamento e la porto più tardi insomma comunque mi alleno quasi tutti i giorni la verità capito Andrea? Elisabetta quando è il prossimo collegamento? quando torna da noi Elisabetta? fra un anno fra un annetto? fra un anno va bene Elisabetta grazie ma no Andrea se vuoi torno tutti i giorni poi mi mandi quel torno tutti i giorni per te mi mandi per favore il nome di quella crema da mettere sulla l'arnica ti mettiamo un po' di arnica dei cavalli però perché mi sono fatto male 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 anche un voltaren no non si può dire non si può dire vabbè ormai l'abbiamo detto salutiamo il voltaren Elisabetta Canalis grazie Elisabetta ciao Elisabetta grazie grazie buona serata buona serata ciao a tutti la vedo male Andrea